Gruppo associato immobiliare, una realtà dall'esperienza pluridecennale al servizio della propria clientela per garantire da sempre un'offerta immobiliare orientata alla tutela del consumatore con una qualità costruttiva assodata da esperienze e professionalità e dalla collaborazione con imprese e aziende consolidate sul territorio. Trasparenza e sicurezza supportate da valutazioni concrete e soluzioni senza costi di intermediazione. E le proposte immobiliari spaziano fra differenti tipologie d'offerta per assecondare le diverse esigenze della clientela. Per colore infatti che amano il massimo comfort e la pace della natura, a Marcellise di Verona il gruppo associato immobiliare propone esclusivamente in affitto 10 raffinate abitazioni di differenti metrature ed una villa padronale di 450 metri quadri nel cuore di un'antica corte rurale. La storia di questa corte risale al 1400 come testimoniano gli eleganti affreschi che ne adornano il corpo più antico. Ad un primo sguardo si rimane incantati dai 16.000 metri quadri di parco che ne incorniciano la residenza, terreno completamente piantumato con olivi e ciliegi. Il restauro, eseguito con materiali di assoluto pregio, ha valorizzato l'intero contesto regalando un'atmosfera di quiete unica. L'eleganza antica del passato che incontra le comodità del presente. Tutte le abitazioni, ad esempio, sono provviste di raffrescamento e riscaldamento a pavimento. Le metrature spazzano dal trilocale alle quattro camere da letto e a completare l'offerta 800 metri quadri di autorimesse posti auto. Mentre la villa padronale coniuga la bellezza degli affreschi e delle antiche travi a vista con moderni dettagli per una quotidianità esclusiva. Un'oasi immersa nel verde a soli 10 km dal centro di Verona e nelle immediate vicinanze del casello autostradale Verona Est. E sempre nella zona dell'est veronese, oltre alle molteplici proposte che potrete trovare visitando il sito internet, a Montorio in via Lanificio il gruppo immobiliare associato propone in vendita eleganti soluzioni abitative da differenti metrature, autorimesse e posti auto affacciate sul caratteristico laghetto Fontanon. Per avere maggiori dettagli su queste proposte di affitto e vendita